Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati oggi qui sul mio canale Oggi signori siamo qui con il video pre-partita di Sampdoria-Brescia Domani ci sarà il match Sampdoria-Brescia E oggi vi andrò a raccontare come sempre le mie sensazioni pre-partita del giorno pericolo Prima di iniziare però signori mi raccomando Lasciate un bel mi piace sotto questo video e iscrivetevi al canale qualora non l'aveste ancora fatto Non costa nulla e completamente gratuito a me invece vale tantissimo Mi raccomando fatelo un piccolo supporto Detto questo ragazzi passiamo al fulcro, al succo del video Perché? Perché oggi Ok, oggi signor punto Andiamo con il pre-partita di Sampdoria-Brescia Allora, partiamo subito Partiamo subito con il dire che Noi veniamo da una sconfitta Entrambe le compagini, entrambe le squadre vengono da una sconfitta Noi veniamo dalla sconfitta nel derby a Como Che è comunque una sconfitta che bene o male ci può stare E E E la Sampdoria invece viene da una sconfitta Anche loro in trasferta contro il Pisa Per 2-0 Diciamo che comunque ragazzi la Sampdoria È una squadra che quest'anno Io vi dico la verità ragazzi Vi dico la verità Rispetto a tanti altri che comunque La mettevano anche nelle prime due posizioni Che la mettevano anche in zona playoff Comunque la mettevano in zone alte Io mi aspettavo che potesse fare una stagione del genere Perché non lo so Non la vedevo una squadra tanto solida la Sampdoria Cioè non lo so Avevo proprio quella forte sensazione Che comunque non avrebbe fatto benissimo In realtà ragazzi secondo me anche a livello di Rosa Ci sono anche un bel po' di squadre Di squadre sopra comunque la Sampdoria Però dice Allora non mi aspettavo che a quest'ora sarebbe stata la quindicesima Però almeno decima o undicesima Magari sì Cioè non mi aspettavo Io dalla Sampdoria non mi aspettavo che quest'anno Potesse appunto lottare per una zona promozione diretta O un playoff tranquillo Cioè non lo so Avevo proprio quella forte sensazione Che comunque la Samp Diciamo non fosse quella squadra così solida Da comunque lottare Diciamo per le posizioni alte Nonostante comunque sia una squadra neoretrocessa Perché ragazzi sappiamo bene come funziona in Serie B Lo stiamo vedendo anche con lo Spezia per esempio E anche quella Sampdoria Che comunque ragazzi Cioè le squadre neoretrocessa Diciamo che ci sono tante squadre neoretrocessa Che fanno fatica Un discorso diverso per la Cremonese Però comunque Anche se provano la Cremonese Era partita male inizio anno E poi comunque è andata La strada essere in discesa Perché comunque la Sampdoria ragazzi Comunque Cioè il fattore trasferta da contare Il fattore due trasferte consecutive Da contare E il fattore trasferta al Ferrari Trasferta a Marassi Uno stadio da Serie A Uno stadio ragazzi Pazzesco Dove ci sarà comunque una grande atmosfera Dove comunque la Sampdoria sarà spinta Dal proprio pubblico Dal pubblico di Genova Dal pubblico della Sponda W cerchiata di Genova Dove sicuramente sarà Una grande partita Con un grande Una grandissima Posso spero Un grandissimo ambiente E di conseguenza Sono anche curioso di vedere Come la squadra si approccerà Anche questa partita Domani Anche perché comunque ragazzi Vi ricordo Vi ricordo Che all'andata Cioè abbiamo vinto Contro la Sampdoria Vero che eravamo in casa Noi abbiamo vinto Contro la Sampdoria Ma soprattutto abbiamo vinto Forse quindi Nel miglior momento Della Sampdoria Perché quello ragazzi Era oggettivamente Il miglior momento Della stagione Della Sampdoria Fino a questo momento Che mi nasce No sbaglio Scusate la ripetizione Momento Che appunto Cioè Volevo dire scusate Per la ripetizione Momento Momento Vabbè Dettagli Comunque Venivano da 3 3-4 vittorie consecutive All'epoca Mi sembra 3 vittorie consecutive E comunque All'epoca Si vedeva una squadra Molto in ripresa Come appunto La Sampdoria Che quindi Riusciva a inanellare Qualche vittoria Quella Anzi Addirittura Riusciva Ad inanellare Delle vittorie di fila Una serie di vittorie E noi siamo riusciti A batterla Siamo riusciti A fermarla E dice Anche Se comunque Da lì poi E' iniziato Un pochettino A barcollare Ha vinto Si poi La dopo Poi ha perso Con la Feralpi Poi ha vinto Insomma Un'andiri Vieni Assurdo Adesso ci troviamo qui Con la Sampdoria Quinticesima E noi che siamo Praticamente Noni A 32 punti A pari punti Con il Modena Che si trova Ottavo Quindi a pari punti Con la zona Con la playoff Con l'ultimo posto Disponibile Per la zona Playoff E Diciamo ragazzi Che sicuramente È una partita Diciamo tosta Perché Forse Noi soffriamo Proprio Queste partite Cioè Magari Noi soffriamo Proprio Queste partite Magari Anche con il Tirolo In cui comunque Non fa una partita Incredibile In cui comunque L'avversario riesce A metterti sotto In cui comunque L'avversario riesce A passare in qualche modo In vantaggio Che se per il tempo Secondo tempo Riesce comunque A passare in vantaggio Ed è una squadra Che comunque Non lotta Per le posizioni di vertice E tu che se comunque Dovresti essere Diciamo il favorito A livello di classifica Non riesce Di esprimerti Anche perché comunque Hai delle pressioni Addosso Per il fatto Che comunque Sei lì Tra sei l'80 Per la zona playoff Anche se L'obiettivo Non ve lo ripeto più Qual è Andate a vedere Negli scorsi video Che ormai Ve lo dico in tutti i video Quindi No Questa volta Non lo dico Però ormai Penso che lo sappiate Anche comunque Per come è stata Costruita La rosa Inizio anno O comunque In quella settimana Di proroga Per come è stata Costruita Ovviamente L'obiettivo Vabbè Ve lo dico Dai Era la salvezza Chiaramente Però Ovviamente Ragazzi Se siamo lì Puntiamoci Puntiamo Alla zona playoff Se siamo lì Ovviamente Cioè Certo Ovviamente Cioè La salvezza L'obiettivo primario L'obiettivo principale Che Ovvero raggiungere 40 punti Dopo i 40 punti Noi possiamo fare Quello che ci pare Ma anche adesso Sognare ragazzi Non costa nulla Quindi A questo punto Proviamoci Proviamo comunque A vedere Quello che Che comunque Si può fare E quello che Questa squadra Riesce a fare Tralacendo Il mercato Vabbè Ve l'avevo già detto Ragazzi Nella volta Il mercato Del breccia Di gennaio È stato disastroso E diciamo Che comunque Non Non mi è piaciuto Per niente Il come Il come È stato gestito Questo mercato Effettivamente Però Alla fine Ragazzi Questo Questo Dobbiamo fare Questo dobbiamo fare E ci dobbiamo E ci dobbiamo Contentare per il momento Però Spero ragazzi Che comunque Questa stagione Finisca bene Per poi magari Della prossima Provare comunque A ripartire Ma Pensiamo chiaramente A quest'anno E A cercare di far bene Sperando quindi In una miracolosa Zona playoff Ragazzi Perché sarebbe Chiaramente Per le premesse Inizio anno Ripeto Sarebbe un miracolo La zona playoff Cioè Sarebbe Veramente Una grande impresa E Anche perché Vabbè C'è lì Ho dichiarato Che La serie La vorrebbe raggiungere L'anno prossimo Perché lui Quest'anno Non c'è speranza Però L'anno prossimo Con tre innesti Costruisco una squadra La serie A Vabbè Neanche parlo Perché sennò Vabbè Dettagli ragazzi Dettagli Dettagli Comunque Comunque Allora Andiamo adesso Con le probabili Formazioni Sempre Dallo stesso Sito Ragazzi Sempre Dallo stesso Sito Tifo Brescia Anzi no Anzi no Scusate Scusate Questa volta È Genova Today Scusatemi E Abbiamo Le due Probabili Formazioni Poi chiaramente Le formazioni Quelle principali Le scopriremo domani Per poco prima della partita Chiaramente Come sempre La Sampdoria Dovrebbe Peppirlo Appunto Dovrebbe Teoricamente Schiarare Un 4 3 2 1 Quindi Praticamente Il nostro Sesso Modulo Perché Piccolo spoiler Anche il nostro 4 2 3 1 Ma C'è un 4 3 2 4 3 2 1 Ho detto 4 2 3 1 4 3 2 1 Per entrambe Le squadre E Poi Comunque Albreci La questione Modulo Ci arriviamo Dopo Ma È Un po La Importa Piccini Ghilardi González E Barreca Poi Iepes Darboe Casami De Paoli E Alvarez Alvarez E De Luca E mamma mia Allora Anche Guardiamo Anche La Differenza Di Mercato Comunque Loro Vanno A prendere Agustino Alvarez Da Sassuolo Vanno A prendere Darboe Dalla Roma Vanno A prendere Anche Cristiano Piccini Quindi C'è Nel senso Anche La differenza Di mercato Anche Ha voluto Rinforzarsi Per provare Comunque Forse Una disperata Salvezza Comunque Per provare A finire Bene La stagione Guardando Anche Con quella Rosa Si Detto Prima Non C'è Una Qualità Excelsa E Anche Si Manca Mancano Anche Giocatori Importanti Qui E Manca Pedrola Manca Borini Quindi Manca Anche Esposito Ragazzi C'è Manca Un po Il Tre Di Davanti Esposito Esposito Borini Pedrola E Tra l'altro All'antrata Mancano Praticamente Due Terzi Di Questo Tridente Però C'è Solamente Esposito Questa volta Manca Anche Esposito Che Tra l'altro Ho sentito Esposito Che Ho sentito Che Tra l'altro Mi sembra Che Aveva Se non Sbaglio Un problema Alla Coscia Non Mi Voglio Sbagliare Comunque Aveva Se non Sbaglio Un Infortunio Comunque Avevo Sentito Di Questa Cosa Che Esposito Era Indisponibile E Il resto Ragazzi Alla fine La Sampdoria Comunque È una squadra Non Quella Eccelsa Però Non è neanche Scabrosa Ragazzi Alla fine Anzi Poi Brescia 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 Maran Dovrebbe Teoricamente Anche lui Schierare Un 4 3 2 1 E Ve l'ho Detto Ragazzi Anche negli Scorsi Prepartita Forse Anche Nei Partire Nel giorno Dopo Sicuramente Nei Prepartita Ve l'avevo Detto Che Appunto Per il Momento Dovrebbe Il 4 2 3 1 Comunque Anche la Difesa 4 In generale È Perfetta E Anche Il 4 3 2 1 Il 4 3 2 1 È Un Modulo Perfetto Perché Comunque Hai La Difesa 4 Che Per i Difensori Centrali Contati Che hai È Ottima Tu hai la possibilità di schiarare 2 fra Cartano Papetti Adorni E Mangraviti Aspettando Aspettando poi ovviamente anche il ritorno di Cistana Dove Cartano Cioè Dove In questo caso Cartano fa il quarto E poi si alternano gli altri tre Dove magari si chiesto metti i papetti Mangraviti Con Adorni che magari fa il terzo Non lo so sarebbe forse più probabile E poi E poi aspettando Poi arrentro comunque di Cistana Teoricamente Cioè qui appunto da Adorni Mangraviti Mettere i papetti nel primo minuto Devo essere sincero Però comunque Adorni Mangraviti Ok Alla fine ragazzi Tutte e tre Non è che mi faccio rimpazzire Però È così ragazzi I difensori che abbiamo sono questi I centrali appunto che abbiamo sono questi E A rientro Poi a rientro Di Cistana Avremo quindi Cartano che andrà fuori il quinto Con Adorni Mangraviti Con magari che so Gli altri quattro Che si interscambiano Quindi magari una volta gioca Adorni Una volta Pappetti Una volta Mangraviti Una volta ci stanno Cioè una volta magari che so Adorni Mangraviti Adorni Pappetti Ci stanno Adorni Ci stanno Pappetti Eccetera Avete capito comunque Questo è un po' Forse il discorso Proprio il momento ragazzi La difesa 4 è ottima E con Praticamente poi Passiamo chiaramente adesso Alla formazione Con Andrenacci In porta Chiaramente Con il lezzerino ovviamente Ancora indisponibile Dickman Adorni Mangraviti E Iallo I quattro difensori Con Dickman E Iallo I due terzini Adorni Mangraviti I due centrali Bisoli Paghera Bertagnoli Praticamente I tre centrali Centrocampo I tre mezzali Con Biarnason E Bianchi Praticamente Le due seconde punte Dieta A supporto Dell'unica punta Moncini Allora Ragazzi La formazione bene o male è quella La formazione bene o male è sempre quella Perché comunque ripeto Hai già i giocatori contati Il mercato non ti è stato fatto E giusto che Maran comunque lavori Adesso con il materiale che ha Chiaramente Non può dire nulla ragazzi Maran Adesso con il materiale che ha Secondo me Il 4 3 2 1 Con questi interpreti Secondo me È ottimo Poi vedete un po' Come mi pare a voi Come mi pare a voi Però secondo me È ottimo E potremmo Andarci a giocare Contra la Sampdoria Nonostante comunque Ripetiamo un fattore Trasperta Che potrebbe Forse Fare la differenza Fare la differenza E poi sicuramente lo farà Perché ragazzi Andare a giocare A Marassi Non è mai facile Però diciamo che Alla fine Tutto sommato Alla Sampdoria Ce la possiamo giocare Abbiamo dimostrato All'andata Che possiamo E dobbiamo Giocarcela E dobbiamo dimostrarlo Anche In questa partita Io spero ragazzi Che questo video Vi sia piaciuto E ci vediamo direttamente E chiaramente Ci vediamo domani Con il post partita Di Sampdoria Brescia Mi raccomando Quindi Si siete sintonizzati Noi ci vediamo Quindi domani Con il prossimo video Mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto E noi ci vediamo Con il prossimo video Mi raccomando Massimo supporto E non Massimo cellino Massimo supporto Arrivederci Forza Brescia